Buonasera a tutti, sono Giacomo Cardia, socialista flotte del gruppo Volkswagen. Oggi siamo in Autocentri Balduina per raccontare i servizi di mobilità che offriamo alle aziende. Sempre più aziende oggi scelgono il servizio del noleggio a lungo termine per gestire in maniera efficiente la loro flotta di veicoli promiscui e strumentali. I vantaggi sono semplicità e immediatezza, zero sorprese e costo fisso sempre, tutti i servizi inclusi in un unico canone, nessun anticipo e nessuna maxirata finale. Un professionista dedicato che si prende cura dalla firma del contratto fino al rinnovo passando per il post vendita. Per maggiori informazioni scrivici alla nostra mail info-abicarmobility.com oppure seguici sui nostri canali social.